Maurizio, il colpo d'occhio di questa sala, fantastico, piena di energia, di entusiasmo, di voglia e anche di risultati. Ben sette campioni mondiali, tanti campioni europei e italiani, una prima zona davvero in salute e lo si vede dai sorrisi di tutti questi atleti e il merito è loro, dei loro istruttori, dei loro dirigenti. I loro dirigenti, gli istruttori, i ragazzi stessi fanno un lavoro fantastico in tutti gli ambiti, questa stagione è stata una stagione di grandi soddisfazioni che però io credo ci faccia ben sperare per una migliore stagione del 2023. Obiettivamente sono contento di aver percepito questa energia che come tu hai citato dalla sala è permeata verso tutto il mondo della vela. Credo che la nostra grande semina come Comitato Prima Zona e come Federazione verso i circoli stia dando dei buoni risultati e dei buoni frutti. Certo è che stasera rincontrare i genitori, gli atleti con questi sorrisi, con questi applausi del tutto spontanei, devo dire la verità, è stata per noi grande nota di soddisfazione. Che dire, ci auspichiamo di rivederli, rivederli magari cresciuti con qualche posizione in più, ci auguriamo di vedere sempre più circoli coinvolti nell'attività di avvicinamento alla vela, naturalmente approfittando della grande vetrina che quest'anno ci darà una grande opportunità in occasione dell'Ocean Race che ovviamente catalizzerà l'attenzione di persone, di pubblico, di appassionati e non solo appassionati di vela ma anche di altri sport e perché no potrebbe essere l'occasione per avvicinare qualche nuovo potenziale atleta. Una cosa che si nota naturalmente è la vasta specializzazione perché abbiamo visto i campioni dell'Optimist, i campioni di vela paralimpica e poi tanti alti dal foil ai 420, veramente una prima zona a 360 gradi innamorata della vela. Cosa vi posso dire? Parafrasando qualcuno potrei dire rimanete connessi e ne vedremo delle belle, non solo le barche volanti, anche appassionati, appassionati a terra, appassionati in acqua e soprattutto marinai, marinai nello spirito e nel cuore. Un'ultima battuta, in questi primi mesi dell'anno in particolare ma poi per tutto il 2023 procede l'attività della formazione costante, formazione permanente di fatto per la prima zona, non si smette mai di imparare? Non si smette mai di imparare, due esempi a brevissimo, continuiamo la formazione per gli istruttori, dei quali la zona ha molto bisogno per portare avanti l'attività, altra grande soddisfazione ci dà il seguito dei nostri corsi, avvicinissimo, abbiamo un corso di cavi cime e impiombature, abbiamo un corso di impianti elettrici di bordo, di sopravvivenza in mare, vi posso garantire che chi rimane collegato con noi troverà in ogni mese almeno uno o due weekend dove si parlerà di vela e si potranno fare attività e corsi legati a tutti i livelli.